Ci sono alcuni che sostengono che la Bibbia sia un libro confuso che non rivela niente di trascendente, di divino. Si sbagliano semplicemente perché non sono capaci di leggere quello che è scritto nel testo. Per esempio la Bibbia annuncia la venuta di Gesù prima ancora che ci sia la profezia di Isaia che annuncia l'uomo dei dolori che noi abbiamo ritenuto castigato e che invece si è caricato eccetera eccetera. Quando nel cristianesimo si vanno a cercare dentro la Bibbia e l'Antico Testamento le origini di Gesù, le si cercano ancora nel modo con cui le si ricercava in quel tempo, ignorando che cosa sarebbe accaduto e sarebbe stato riconosciuto vero alla fine del tempo, ossia quando c'è la giustizia. Il tempo è una divisione dell'unità. infatti un film che è diviso in due tempi significa che la proiezione non dura un tempo solo ma è divisa in due tempi di visione. Il tempo questo è, è una frazione dell'unità. La fine del tempo è quel periodo che viene alla fine quando la giustizia è fatta tutta, perché tutta la divisione è stata fatta. Se voi vedete un film solo nel primo tempo e credete di trovare la giustizia lì nel primo tempo siete in evidente inganno. Chi di voi conosce come va a finire il film se non alla fine del film? Ecco noi nella vita siamo allo stesso modo. Leggendo l'Antico Testamento state leggendo una premessa che non si sa ancora come come va a finire se non alla fine. Voi dite no, più ci allontaniamo da quel principio lì, più vediamo confuso quel principio. Sì, è vero, quel principio è molto lontano, ma la divisione che riguarda ogni cosa si avvia la sua conclusione solo al termine della divisione. Io forse non sono capito da chi fa fatica proprio a capire come è fatto. Se io ho 100 mele da dividere per 100 bambini è evidente il risultato di 100 diviso 100 uguale 1 mi informa che io devo dare una mela a ogni bambino e allora comincio questa distribuzione che accade nel tempo. Quanto è questo tempo? Sono 100 tempi singoli in cui in ogni tempo singolo io do una mela e una soltanto a un bambino solo e tutti gli altri dicono e noi che ingiustizia c'è perché tutti pretenderebbero che una divisione di uno dopo uno accada insieme. Insieme si sa solo il risultato di questo insieme perché 100 diviso 100 rivela che bisogna dare una mela a bambino, ma poi occorrono 100 tempi singoli in cui si dà una mela e una mela a ogni bambino e ogni bambino deve aspettare il suo turno. Quando ci sarà tutta la giustizia di questa divisione? Quando l'ultima mela sarà data all'ultimo bambino. Quindi alla fine del tempo si sanno tutte le cose perché fino ad allora nel primo tempo si ignorano ancora tutti gli altri 99 tempi di distribuzione come saranno. Di conseguenza se noi rimaniamo nel tempo dell'Antico Testamento in quel tempo si ignorava umanamente che cosa ci sarebbe stato dopo e anche Gesù in quel tempo può riferirsi per essere capito a quello che è stato diviso fino a lui e non a quello che si capirà esistere ed essere vero alla fine del tempo, ossia ora. Noi ora siamo alla fine del tempo perché il tempo si regola sulla venuta proprio di Gesù Cristo che fissa l'anno zero e proprio in relazione ai valori totali del tempo che quando assume dei numeri assume anche dei cicli che non sono infiniti, sono definiti e allora capito che è l'anno il ciclo intero della Terra con questo immediatamente si fissa anche il ciclo finale di tutta la divisione. Tutta. Perché? Perché intanto occorre un modello divino dell'unità e quando c'è questo modello divino dell'unità e trinità fondamentale di Dio che potete considerare una nella presenza e trina nei tre lati che devono esistere spazialmente in questa presenza per tenere presente un cubo e non solo una linea perché se noi fossimo solo nella linea del tempo saremmo solo in una linea ma assieme all'affermazione della linea come dieci ed è un dieci ce ne devono essere poi altri tre dieci che valgono come un lato l'altro lato e il terzo lato della presenza cubica. Quindi col modello del Dio 1 nel tempo in linea e trino nelle tre linee che questo tempo percorre simultaneamente ecco che siamo in condizione di fissare la fine del tempo. Essa riguarda il ciclo di presenza 10 nella sua unità di presenza trascendente perché non è letto 0 10 non è letto 0 1 ma è letto 10 proprio attuando la visione uguale e contraria ossia quella divina. La visione divina non è chissà che cosa. Quando ci sono delle quantità reali messe in campo come 0 1 la visione divina è una visione che anziché essere da sinistra verso destra che porta quello 0 1 a essere letto 0 1 e dunque 1 perché lo 0 davanti non dice nulla quando è letta nel senso inverso e lo 0 è letto dopo si legge 10 e 10 è l'unità del ciclo. Trascendente la realtà 0 1 perché mette in atto proprio la visione opposta non da sinistra verso destra ma da destra verso sinistra e quando c'è questa visione trascendente 10 trascendente l'unità il suo valore assunto come 10 per 10 per 10 è 1000. Quindi vedete che il 1000 determina la fine del tempo come modulo ma poi questo modulo ha due versi di percorrenza c'è il verso da sinistra verso destra e c'è il verso da destra verso sinistra. Tutti e due provenendo da meno 10 no da meno 1000 perché meno 10 al cubo quindi da meno 1000 fino a più 1000 c'è l'intero percorso nella linea unica del tempo e sono 2000 anni perché l'anno è il valore unitario di tutte le differenti dinamiche della massa terrestre finché non ritorna nella stessa posizione rispetto all'universo delle stelle fisse. Ecco chiarito questo si chiarisce che la fine del tempo arriva a anni 2000 nella unità del tempo calcolato in anni ma poi ci devono essere anche tutti gli altri dettagli dei mesi dei giorni e degli anni singoli diversi da quel 100 che li pone come 20 secoli percorsi tanto che il 10 che è il valore unitario si riferisce ai 100 anni e quindi abbiamo un 10 secoli che avanza di 10 secoli come 2000 anni e abbiamo fatto il primo pezzo concluso diviso. Dobbiamo poi dividere i singoli anni perché perché quando noi vediamo in un verso solo da meno 1000 fino a più 1000 noi in sostanza dimezziamo il valore reale perché di fronte al modello 10 al cubo che avanza di 10 e quindi 10 elevato a 4 che esprime un 10.000 in unità quello che avanza solo in linea non è tutto il ciclo 10 ma è solo la quantità che da un punto finisce all'altro punto opposto diametralmente e se tutto il ciclo è 10 per andare nel punto opposto occorre un 5 il che dimezza la realtà e la porta a 5 elevato a 4 che è uguale a 625 ebbene quando il 10.000 in unità si mostra diviso in 625 unità non è che perda qualcosa è soltanto una divisione perché in sostanza si mette tutto in linea di flusso ed è in relazione a un fronte che è 16 perché 10.000 diviso 625 uguale 16 è un fronte unitario 16 ossia 4 per 4 che consente di vedere il 2000 capite allora poiché l'unità è in anni dobbiamo aggiungere 16 anni proprio per quantificare la necessità di questo fronte 16 in cui devono essere caricate tutte quelle quantità di un mille che avanza di mille e abbiamo risolto quindi anche l'unità dell'anno ma poi dobbiamo metterci anche l'unità del mese il mese è determinato intanto dalla quantità che esiste in 16 anni sono 192 mesi quindi dire che occorrono 6 e 16 anni pieni o che occorrono 192 mesi è la stessa cosa quindi fino a questo punto qui non abbiamo messo in campo niente ma dobbiamo mettere in campo che oltre questa pienezza avanza un numero di mesi pari a un'opera intera che sia 7 il quale 7 aggiunto al 192 porti il totale a 199 vedete perché 199 mesi perché l'intero dei mesi è dato da 200 che è un valore assoluto di presenza 100 e 100 ma deve essere posto in relazione a uno di quei mesi e quindi unitariamente risulteranno 199 e quindi quando noi abbiamo aggiunto ai due millenni il numero di 199 mesi arriviamo proprio a definire l'unità nel mese in una perfezione quantitativa data da 199 unità che sono le 200 in tutto ma poi rimane il giorno e bisogna definire anche il giorno il giorno nella pienezza dell'avanzamento 10 legato al valore 3 della trinità a un 10 più 3 13 che poi è la fase solo reale di un dio 26 dato da 13 più 13 perché va da meno 13 fino a più 13 in questo essere 10 e 3 e dunque si arriva al giorno che è il 26 del mese 7 e qui siamo arrivati alla piena definizione quanti sono questi giorni nell'arco proprio di quanto si aggiunge al 2000 e possiamo calcolarli sono 5844 i giorni sono un valore intero altro che perché 44 l'ultimo valore è proprio quello che ha presentato disaggregati in tutte le componenti unitarie le quattro dimensioni della realtà in cui esistono le 10 dimensioni di una presenza 10 spaziale che è unitaria e ha un 1 sotto tanto che sopra c'è 10 sotto c'è 1 e sono 11 11 volte 4 sono 44 e 58 che cosa esprime in centinaia perché sono 58 centinaia esprime 60 centinaia come tutto il percorso assoluto 6 in mille 6.000 6.000 è proprio il 10 al cubo che avanza in tutti e 6 i versi però per avanzare in linea deve mettere due unità sul fronte come divisore e togliendo due dimensioni a 60 centinaia rimangono esattamente 58 centinaia quindi vedete che 58 centinaia e 44 che sono tutti i giorni proprio legati per adesso solo a 16 anni interi abbiamo che sono una unità però ci sono poi anche tutti i giorni da considerare presenti nell'anno e basta andare al 26 di luglio e vedere che numero di giorno è il 26 di luglio il 26 di luglio normalmente quest'anno cioè l'anno scorso era il giorno numero 207 l'anno scorso non era bisestile mentre invece il 16 è bisestile e quindi per arrivare al 26 c'è un giorno in più non sono 207 ma sono 208 e se aggiungiamo questi 208 giorni di dettaglio ai 5844 quindi 52 è una duplicità di un fronte che in linea è 26 e 26 Dio in un lato Dio nell'altro lato e il totale è 6000 6000 è il 10 al cubo in tutti e sei i versi che esistono dunque quando io vi ho fatto questo calcolo di tutti gli anni che devono esistere i mesi che devono esistere i giorni che devono esistere e sono arrivato ai 2000 proprio come 10 al cubo dal negativo fino al positivo a cui poi vanno aggiunti 6052 giorni vedete bene che abbiamo un valore di 6052 che ha un contenuto proprio totale è la fine del tempo è quel mezzo tempo cui si riferì il profeta Daniele quando parlò di una profezia comunicata a lui da tre uomini vestiti di bianco uno dei quali parlò di un tempo di 1290 giorni l'altro disse beati coloro che arriveranno 1335 giorni e poi un mezzo tempo proprio collocato in mezzo a quei 45 giorni che esistono tra 1290 e 1335 che essendo un valore assoluto diventa di 44 unità e la metà è quelle 22 unità che tolte a un giorno che è esattamente il 17 di agosto del 1000 e del 2016 consente di arretrare a questo mezzo tempo in cui si è concluso tutto il tempo esatto di divisione una volta che Dio ha assunto i valori unitari di riferimento assumere i valori unitari di riferimento comporta necessariamente la divisione totale del tempo ve l'ho spiegato perché perché i numeri sono cicli che si compiono in questa realtà non è che sono infiniti no dei cicli prestabiliti si compiono e quando è prestabilito il 10 al cubo in anni il ciclo totale di 1000 è dato da un 1000 più 1000 sono 2000 il ciclo intero in mesi abbiamo visto qual è è di 199 unità comprese nelle 200 e se li calcoliamo in giorni oltre i 2000 sono esattamente quei 60 quei 6.052 che in sostanza sono 6.000 ossia la percorrenza di 1000 1000 1000 1000 1000 6000 lineare tutta con un fronte di Dio 26 in un lato e 26 nell'altro ecco capito tutto questo alla fine del tempo si sa la perfezione che allora non si sapeva perché ancora non erano i tempi arrivati in modo che si capisse e la stessa entrata in scena di Gesù si doveva affidare a certe profezie come quella di Isaia mentre invece c'è il capitolo 25 del primo libro tanto che se noi diamo valore assoluto al libro e lo chiamiamo 100 e non 1 e diamo valore unitario al capitolo il 100 più 25 diventa 125 e è esattamente proprio l'indice di tutto quanto il mediatore ossia il 5 presente nel 10 ha un cubo di riferimento che non è 10 nel lato è 5 e 5 per 5 per 5 fa 125 è lo stesso che portava al 5 non al cubo ma a 4 come a tutta la realtà dimezzata che era 625 quando prendiamo questo 125 e lo moltiplichiamo nuovamente per 3 il 125 diventa 625 mi sembra un po' scusatemi io voglio fare un controllo 5 a cubo e 125 5 elevato a 4 e 625 a 4 e 125 per 5 scusatemi mortificavo per 3 stavo facendo un errore 125 per 5 porta a 625 quindi vedete che Genesi che diventa un valore assoluto 100 il primo dei libri della Bibbia e invece unitariamente assume il valore unitario il capitolo Genesi 25 racconta quello che è proprio il preannuncio di ciò che accadrà fino alla fine del tempo fino alla fine del tempo non prevede solo Gesù Cristo prevede anche l'arrivo del padre e il tutto è previsto con tanto di nome e cognome ma intanto per prima cosa noi dobbiamo leggere il testo preciso di Genesi 25 perché altrimenti noi parliamo un po' senza la base che è questo libro qui il testo della Bibbia dobbiamo andare a leggere il capitolo 25 cominciando da quando parla di Esau e Giacobbe ossia della storia della discendenza di Isacco comincia con il capitolo 25 nel versetto 19 questa è la storia della discendenza di Isacco figlio di Abramo Abramo aveva generato Isacco Isacco aveva 40 anni quando prese per sé Rebecca figlia di Betuel l'Arammeo di Paddam Aram e sorella di Labano l'Arammeo Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile e il Signore lo esaudì cosicché Rebecca sua moglie divenne incinta la prima riflessione che vi voglio fare io è questa Rebecca è sterile se non è più sterile perché mette al mondo un figlio essendo sterile questa concezione è divina è trascendente la sua stessa sterilità ossia siamo proprio a una condizione di assoluta premessa rispetto a quanto poi accadrà a Maria che non è sterile semplicemente non ha ancora marito e sarà concepita la figura di Gesù dalla Vergine in questo caso c'è proprio una sterile che a ragione dell'intervento di Dio è messa in condizione di non essere più sterile e quindi già quello che succede qui è figlio di Dio perché abbiamo una donna reale che è la mamma reale mentre invece tutta la paternità di sesso maschile resta incaricata di rappresentare la figura nella realtà umana di Dio ma per pura trascendenza perché in effetti la Rebecca non è stata messa in cinta essendo sterile dal seme del marito ma da un'entità più forte della sua sterilità che l'ha messa in cinta di conseguenza se noi vogliamo dare a trovare umanamente le radici di questa Rebecca dobbiamo andare a considerare con più attenzione di chi sia figlia qui era figlia di Betuel Bet Uel Bet è il numero due in lingua ebraica Uel possiamo in italiano immaginare uguale uguale a un duo ecco lei discende da una figlia lei è figlia di uno uguale a un duo è arameo aram a r a m viene da aram quando noi considerassimo che andremo a finire qui alla descrizione a un a r amodeo romano am ar am ossia io sono nel mondo perché la lingua che è definita alla fine del tempo nel mondo è l'inglese e am significa io sono ecco aram indica io sono ar dunque la vera origine di questo che nascerà sotto il profilo umano non viene da abramo se non per trascendenza perché il legame reale è quello proprio incarnato realmente in rebecca che viene da uno uguale a un due che è ar am è di ar am di amodeo romano proprio come un segno di derivazione umana non divina perché quella divina avviene attraverso l'intervento divino a favore di isacco che è sostituito nella sua capacità che non poteva essere capace nei confronti di una che non era in grado di dare figli e quindi è il padre trascendente allo stesso modo di come sarà padre trascendente di gesù espresso attraverso giuseppe il padre putativo ecco anche qui noi abbiamo un padre putativo perché isacco è un padre putativo andiamo avanti a leggere isacco supplicò il signore per sua moglie perché era sterile e il signore lo esaudì cosicché Rebecca sua moglie divenne incinta se non che i figli si urtavano l'un l'altro dentro di lei ed ella disse se è così perché vivo e andò a consultare il signore aveva un grande dolore dolore in se stessa era stata messa incinta da un'opera divina però ora lei soffriva perché nel suo grembo c'era una lotta perenne tra due che erano nel suo seno andò a consultarsi dal signore proprio dicendo mi hai mandato questa discendenza ma perché c'è questa lotta se è così perché vivo il signore rispose guardate che è importantissima questa risposta del signore perché cosa dice due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli dalle tue viscere si separeranno un popolo prevarrà sull'altro popolo e il maggiore servirà il minore dunque è espressa una duplice nascita di una duplice presenza e di una duplice interpretazione una secondo una realtà apparente l'altra secondo una verità di fatto la realtà apparente è che i due popoli saranno uno il popolo romano l'altro il popolo di israele il popolo romano prevarrà sul popolo di israele e questa è la realtà nella sua apparenza l'ultimo versetto spiega invece la verità di fatto non nell'apparenza ma nella verità e il maggiore servirà il minore cioè nella realtà apparente sembra che il maggiore si impone e comanda sul minore in un modo intollerabile che porterà il popolo minore ad avere il desiderio di un messia di totale liberazione contro il popolo romano ma il popolo romano che sembra essere il dominatore e persecutore in verità servirà il popolo minore ora quando parla il signore noi per prima cosa dobbiamo chiederci se è stato vero tutto questo oppure no è stato vero che il popolo romano abbia fatto un servizio al popolo minore proprio in relazione a quell'attesa messianica di un salvatore degli ebrei dalla morsa dei romani è accaduto o no beh se il messia atteso era Gesù l'epilogo reale sembra coerente con il popolo maggiore che perseguita fino alla morte in croce quel messia del popolo minore che sembra non essere il vincitore ma nella verità avremo che il messia di questo popolo sottolinea una verità trascendente che quando c'è un maggiore che comanda e si impone sul minore tanto che gliene fa tutte quelle che vuole e sembra e sembra il dominatore in realtà in verità è chi patisce nei confronti della vittima perché tra i due il vero beato è la vittima Gesù nell'attimo della sua morte esalta nel discorso famosissimo della montagna in cui aveva affermato il principio vero in assoluto che il vincente e il beato è chi è sottomesso è chi ne patisce di tutti i colori è chi cede al trionfatore è chi si nasce a fare di tutto e chi consente che se non si abbassa di sua iniziativa sia abbassato da chi lo mette giù lo sottomette perché tra i due il vincitore il beato non è il sottomesso cioè non è il vincente ma è il sottomesso ecco la verità di Gesù è trascendente la realtà e dunque quando noi avremo Gesù messo in croce c'è proprio la verità imposta in questo modo qui in cui abbiamo il popolo romano che uccide addirittura il messia del popolo minore ma facendo questo fa un servizio al messia perché ed è storia quando arriveranno i tempi giusti nella divisione reale si vedrà questa vittoria si vedrà perché a Roma il sole invitto che era celebrato il 25 di dicembre viene mutato nel 25 dicembre giorno natale di Gesù Cristo e c'è un Ra un Dio del Sole romano che permette proprio la nascita del giorno natale non dà luogo alla nascita di Gesù ma del giorno natale sì ed è quindi attraverso proprio il servizio fatto dal popolo maggiore nei confronti del messia del popolo minore perché ne decreta addirittura il giorno natale mentre nella realtà sembra che il popolo romano sia la causa della morte di Gesù Cristo abbiamo la verità trascendente che il popolo romano attraverso il Ra di Roma il Ra romano dà luogo addirittura al giorno natale celebrato per Gesù Cristo da allora in poi da tutto il cristianesimo e dunque possiamo ritenerci soddisfatti della verità che arriva però nel tempo opportuno non arriva nel momento in cui Gesù è crocifisso e risorge no ci vuole che maturino i tempi ma quando i tempi arrivano maturi la giustezza della divisione entra in atto e si afferma tempo dopo il tempo che occorre ma si afferma e con questo è dichiarato senz'altro da noi vero questo che il Signore ha riferito a Rebecca due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli dalle tue viscere si separeranno un popolo prevarrà sull'altro popolo e il maggiore servirà il minore andiamo avanti a leggere che cosa succede nel momento del parto perché è estremamente significativo quando poi si compì per lei il tempo in cui doveva partorire ecco che due gemelli le stavano nel grembo il primo uscì rossiccio come un peloso mantello e lo chiamarono Esau subito dopo uscì suo fratello nell'atto di tenere con la mano il calcagno di Esau e lo si chiamò Giacobbe Isacco aveva 60 anni alla loro nascita ecco questo gesto di tenere con la mano il calcagno del fratello è proprio il segno che fin dalla nascita c'è una gara tra i due su chi deve venire al mondo per primo viene al mondo per primo Isacco ma il fratello è lì diciamo a ruota perché è come il pieveloce Achille che è colpito nel calcagno qui non si tratta di una freccia ma si tratta di una mano che cerca di tirare indietro il fratello perché vuole assolutamente imporsi come primo non è il primo ma vuole imporsi come primo e ci riuscirà nell'arco della vita perché per capire che cosa accade poi nell'arco della vita dobbiamo andare avanti a leggere questo capitolo 25 e vediamo che cosa succede fino alla fine del capitolo 25 i fanciulli crebbero Esau divenne un uomo assuefatto alla caccia un uomo della steppa mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende Isacco prese ad amare Esau perché la cacciagione era di suo gusto mentre Rebecca amava Giacobbe una volta che Giacobbe aveva fatto cuocere una minestra arrivò Esau dalla steppa tutto trafelato allora Esau disse a Giacobbe fammi mangiare un po' di questa minestra rossa perché sono sfinito per questo fu chiamato Edom Giacobbe rispose vendimi subito la tua primogenitura di rimando Esau eccomi eccomi sul punto di morire e a che cosa mi serve una primogenitura Giacobbe allora disse giuramelo immediatamente e quello glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe Giacobbe diede allora ad Esau pane e minestra di lenticchie quello mangiò beve poi si alzò e se ne andò tutto tanto poco stimò Esau la primogenitura ecco si conclude così questo brano in cui in sostanza Esau rinuncia al suo nome perché aveva un nome di quattro lettere la A che era la Aleph in ebraico che è il numero uno veniva in terza posizione A L era E S A Esau perdendo il primato Esau resta Trino perché gli restano tre lettere delle quattro che aveva e resta Esau se il fratello prende il sopravvento e assume il primato di una cifra che è proprio quella cifra che ha dovuto rinunciare Esau il primato espresso da una cifra è la G iniziale di Giacobbe e la G si mette davanti a Esu il nome che ne esce è esattamente il nome Gesù dato a Joshua dato a Jesus dato a Jesus dato a Jesus solo l'italiano ha la verità che risulta dai nomi ebraici solo l'italiano e solo l'italiano li esprime perfettamente perché secondo le attese proprio ebraiche di un dio con un nome segreto di 42 cifre è solo in italiano che Esau vale 42 nelle quattro cifre perché la E è la lettera numero 5 la S la numero 17 la A è la numero 1 e la U è il numero 19 la somma è 42 un 42 espresso con quattro cifre suo fratello Giacobbe ha lo stesso numero 42 però espresso non in quattro cifre ma in otto cifre se noi prendiamo i due nomi per le cifre con cui escono il primo è un quattro il secondo è un otto in sostanza nasce un 48 il valore cabalistico di Gesù è 48 perché la G è 7 la E è 5 la S è il 17 la U è il 19 e la somma di Gesù è 48 ossia come le cifre del primo figlio seguite dalle cifre del secondo figlio 48 ma quel 48 se noi lo facciamo partire dal 42 che è all'origine secondo la fede ebraica del nome segreto di Dio è dato da 42 più 42 che è 84 se trascendiamo 84 ossia lo leggiamo nel senso inverso solo allora diventa 48 uguale Gesù quindi vedete che siamo nella perfezione proprio di tutto quanto la fede ebraica attendeva in relazione al nome segreto di Dio il nome segreto di Dio uno dei due è Gesù ma a questo punto arriviamo anche a poter sapere il nome segreto del padre perché se nascono due gemelli e ciò è proprio a indicare che c'è una genesi padre figlio che hanno lo stesso numero 42 e 42 è il valore del nome segreto di Dio 42 cifre se andiamo a pensare proprio a questo dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a qualcosa che deve essere verificato e in che modo deve essere verificato e deve essere verificato attraverso delle considerazioni ecco sono quelle che noi ora faremo ma io ve le voglio fare per iscritto con davanti un testo in modo da poter controllare esattamente il senso di tutto quello che io vi dico in genesi 25 al versetto 23 è scritto il signore rispose due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli dalle tue viscere si separeranno un popolo prevarrà sull'altro popolo e il maggiore servirà il minore io l'ho sintetizzato nelle prime due righe in cui metto in evidenza che il signore disse a Rebecca in te ci sono due popoli il maggiore che è il popolo romano si imporrà sul minore che è il popolo ebreo ma lo servirà abbiamo visto che tutto questo si attuerà esattamente nel terzo secolo dopo cristo in cui il dio ra dio del sole a roma il dio ra romano cederà al figlio il cristo del popolo ebraico gesù il suo natale contraddicendo totalmente la morte alla persona data dal popolo romano a gesù cristo perché lo servirà proprio dandogli il giorno natale che non si conosceva nel testo bisogna recuperare attraverso i due figli che sono nati da Rebecca come segno dei due popoli il romano e l'ebreo il primo nome del figlio ebreo sappiamo benissimo noi che il messia del popolo ebraico essendo cristiani è gesù ma quando noi abbiamo un primo che ha il nome esaù e che ha Aleph numero uno nella terza posizione a indicare proprio il segno del suo primato che si toglie di mezzo perché è assunto dal fratello secondo genito Giacobbe e che sostituisce la G alla A e si mette davanti ecco che la G di Giacobbe seguita dal fratello che è restato Esù determina senza nessuna ombra di dubbi un Dio uno e trino nel nome di Gesù uno nella G e trino nel suo essere Esù come il primo senza il suo primato ecco Gesù prenderà il posto del Ra Dio del Sole romano e in Ra romano Amodeo sarà figlio di Luigi Amodeo ma questa è soltanto un'anticipazione di quella che apparirà come il secondo quesito da risolvere il numero due il nome del padre del popolo romano perché nel primo punto abbiamo scoperto il nome del figlio e il nome del figlio è Gesù adesso dobbiamo scoprire il nome del padre di questo popolo romano bene nella scrittura da destra verso sinistra che è araba e ebraica da destra verso sinistra allora al primo posto senza alcun dubbi si colloca il nome di Allah e lo vedete scritto sotto così come è scritto ma come va letto Allah in arabo da destra verso sinistra dopo di lui è messo in ebraico il nome di Giacobbe espresso nello stesso ordine da destra verso sinistra di già ora in Giacobbe perché non è più nel segno del primo e dunque assume il segno trino laddove la presenza unitaria è stata lasciata ad Allah c'è il primo dunque Allah e segue dopo di lui il trino rappresentato dalle tre prime lettere del nome di Giacobbe dietro si colloca il fratello ma Esau ha perso il primato quando ha perso la A e è stato quell'Esù che segue la G a determinare Gesù ora perde anche l'aspetto trino perché è assunto da chi si era messo prima di lui ed è assunto tutto intero in Gia quindi Esau ha perso il primato e ha perso il suo ruolo trino ha perso tutto il nome tutto Esau il nome infatti è mutato in Edom e quindi segue con il nome mutato di Edom scritto nell'ordine ebraico da destra verso sinistra quindi abbiamo Allah seguito da Gia e da Edom ora noi che leggiamo in ordine inverso dobbiamo rovesciare la lettura e il primo nome Allah seguito da Gia miracolosamente ci diventa un lui già letto tutto in lettere italiane perché il nome di Allah così come è scritto e così come appare quando è letto come facciamo noi da sinistra verso destra ecco che la stessa lettura pari pari fatta nel senso inverso porta a lui già lui già porta mentre Esau che ha mutato il suo nome Edom proprio a ragione del fatto che è stato mutato va mutato e ribaltato tanto che da Edom diventi Modè altrimenti non avremmo più il segno del primo genito Esau il cui nome è stato mutato in Edom e se noi togliamo di mezzo questa mutazione di Edom lo mutiamo in Modè e il nome che ne risulta è esattamente il Luigi Amodè dieci cifre di un Luigi Amodèo che deve essere definito ancora soltanto nell'ultima delle cifre la undicesima che si pone in un certo senso come il denominatore delle altre dieci a esprimere la velocità della presenza dieci a uno poiché questa è la presenza di Dio che nei due valori inversi tra di loro come il numeratore e il denominatore esprimono il meno tredici che poi diventa più tredici nel ventisei di Allah quando assume il nome di Yahweh ossia di Dio ecco che allora il denominatore è proprio quel tredici che nella lingua italiana è la lettera O per cui quando noi mettiamo insieme il nome Luigi Amodèo è il nome che nelle prime dieci cifre è espressione del numeratore nell'ultima è l'espressione di quella valenza tredici del Dio uno e trino nel suo essere trasceso a dieci nell'unità e essere reale nelle tre dimensioni della presenza spaziale ecco come vedete il valore che deriva da Genesi 25 conferma proprio che siamo in presenza di un figlio romano di Luigi Amodèo è un figlio romano nato nel gennaio giorno 25 come in Genesi 25 essendo gennaio del 25 egli è il primo proprio nel mese 1 del giorno 25 ma visto che proprio in questo testo si afferma primo chi è ultimo ecco che si passa dal gennaio 25 che esprime il primo nato nel primo mese al 12 25 che esprime il secondo nato al termine dell'ultimo mese dell'anno quindi l'avvento del figlio che era l'altro estremo nel 12 25 è perfetto ma nell'ordine delle cose che accadono nel tempo visto che è il tempo che è veramente primo in ciò che è ultimo e quindi il momento più avanzato nel tempo è proprio l'ultimo mentre il primo che sembra passato è ancora da venire noi infatti siamo prima del tempo di Gesù Cristo oggi noi siamo al tempo in cui abbiamo la presenza viva del figlio del padre quel romano figlio di Luigi Amodeo in cui si è impersonato in lui italiano un Joshua che in lui italiano ha assunto il nome italiano di Gesù dunque il gennaio 25 ha fatto passare prima il 12 25 di Gesù e quella mano che nel secondo tentava di porsi prima è proprio quel Gesù nato il 25 nell'ultimo mese che realmente si presenta nella storia della vita umana prima del primo ma in questa verità il vero primo rimane il vero primo perché quando il secondo che è l'ultimo si pone davanti al primo poi il vero primo risulta l'altro quello che era veramente il primo in principio insomma Esau e chi è Esau è un romano il quale in es visto che si tratta di Dio ci va di mezzo il verbo essere e nel verbo essere scritto in latino che è la lingua di un romano sono si dice sum sei si dice es e esau dice che sei da la alla u in presenza delle cinque vocali che sono a e i o u ossia sei da principio alla fine sei l'alfa a modo dell'omega questo è nel nome di Esau in un'epoca in cui il latino ancora non c'era e quando poi andremo a questa dizione espressa dal Dio nel valore della prima persona come sum io sono luce sum lux di Onam perché i due gemelli che ci saranno dopo in un altro gemellaggio quello di quel capitolo 38 che è il valore assunto proprio da lui lui che si mette davanti nel linguaggio italiano a formare Luigi lui vale 10 nella L 19 nella U e 9 nella I vale 38 e per avere la genesi di lui bisogna andare a genesi 38 perché Romano nascerà anzi è nato sono io che vi parlo nel gennaio 25 del 38 genesi 38 riporta alla genesi di lui e chi è lui nella genesi 38 è Giuda estremi G e A di Giuda chi è la mamma la mamma è Tamar estremi della mamma di Romano la quale si chiama Baratta Mariannina e Ta sono le due ultime cifre estreme di Baratta e Mar sono le prime due cifre estreme di Mariannina Tamar è la moglie di Giuda e Vale 47 la stessa cosa di Amodeo dunque abbiamo tutti gli estremi indicati in Genesi 25 per quanto è simile tra la nascita di Romano e la nascita di Gesù quello che è messo insieme come una mano che congiunge è il giorno 25 che è comune tra Gesù è Romano mentre invece il mese dal primo diventa l'ultimo quando passeremo alla Genesi di lui ossia di 38 ossia di Maria che essa pure vale 38 abbiamo chiaramente che la Genesi di 38 riguarda per quanto riguarda Romano Luigi Amodeo e Baratta Mariannina il 38 come l'anno di nascita di Romano mentre invece la mano che si è presentata per prima e non più come un elemento di giunzione tra i due gemelli che vengono in Genesi 38 indica che il vero primo si presenta per primo nel giusto valore dell'anno mentre invece il secondo il figlio si presenta non nell'anno 38 ma nella generazione numero 38 a partire da quella di Giuda il primo che figura in Genesi 38 come il padre un padre trascendente perché prenderà il posto di Er sposo di Tamar e di Onan secondo sposo di Tamar prendendo il posto di un Er Roman che in realtà è Ronan e questo Onan è proprio quello che diventa Sum Sum Lux Onan sono la luce di Onan e quando si rovescia in maniera speculare rimanda al musulmano proprio come nel segno del nome stesso di Allah che si sposta nel linguaggio da una indicazione nell'alfabeto arabo a quello in un alfabeto italiano è da notare che Allah dichiara a Maometto di essersi presentato in lingua araba per il momento che quello è il corano scritto in arabo e lascerà proprio in virtù di questa lettura sia in arabo sia in italiano l'indicazione che quando il corano sarà tradotto in italiano sarà spiegato in quei valori trascendenti il corano arabo e che saranno la versione finale e definitiva di un corano che è scritto e è ripetuto 113 volte in nome di Allah il misericordioso il compassionevole come il valore 113 di Romano Amodeo come il valore 113 di Torquato l'ultimo nome di Romano Amodeo che ne ha i cinque proprio sia delle lettere di Allah sia del valore di quella mano che esce e che sarà richiamata nel musulmano il quale musulmano al posto di romano sostituisce al ro proprio 218 238 MSL che è alla base del saluto salam e che ha proprio un contenuto numerico uguale a 38 e le due di musul che sono 19 più 19 uguale 38 dunque nel musulmano genesi 38 che riguarda proprio lui che riguarda proprio Allah vale due volte 38 e 38 in musul mentre in mano vale proprio ciò che completa ro mano quel ro che è il valore della greca ro e c'entra con Cristo che si presenta come chi ro una chi che ha il segno x che nel valore a Roma nel popolo romano indica il numero 10 tanto che chi ro rimanda al 10 romano come al valore seguito da Dio e assunto da Dio per creare un mondo costruito interamente sui numeri su questi tre numeri 10 elevato a 0 uguale 1 esiste in pura potenza unitaria dello Spirito Santo 10 elevato a più 1 è 10 e esiste nella realtà in atto del Padre 10 elevato a meno 1 esiste nella realtà in atto del figlio questa equazione di 10 elevato a 0 uguale 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1 che si poggia su 3 10 è l'unità e trinità di Dio è è quel valore assoluto vero che poi fu imitato dalla scienza quando definì le sue unità di misura del sistema metrico decimale sistema metrico decimale già in uso nella scrittura della Bibbia la Bibbia fu scritta in numeri organizzati in questa maniera vedete il riquadro che va letto da destra verso sinistra come nella lingua ebraica c'è un valore di mezzo che esprime i numeri 10 20 30 40 50 60 70 80 e 90 sono la riga base poi espressa in tre ordini di grandezze questa il valore espresso nel decimo nella prima riga e il valore espresso nel decuplo nella riga inferiore tutte le lettere di alfabeto che voi vedete qui sono numeri e la Bibbia fu scritta in numeri proprio i numeri da 1 fino a 999 erano composti dalle unità dalle decine e dalle centinaia la Bibbia fu scritta così per quantità numeriche la lettura cabalistica della Bibbia si rifà a queste quantità numeriche e secondo esse quando Dio dichiarò di chiamarsi Yahweh a Mosè si rivelò nel numero 26 infatti infatti avete il primo valore della Iod che è 10 poi c'è il 5 per la H il 6 per la W e il 5 per la H e forma il tetragramma di Yahweh 26 è lo stesso valore dato cabalisticamente nell'italiano perché nell'italiano la D è la lettera numero 4 la I è la numero 9 e la O è la numero 13 e il totale è lo stesso 26 del totale di Yahweh